Aumentano i contagi a Torre del Greco nel weekend. Nelle ultime 48 ore sono stati registrati 40 casi di positività al Covid-19 a fronte di 11 cittadini dichiarati guariti. Inoltre sabato è stato comunicato il decesso di un 88enne. Il bilancio dei positivi cambia quindi in 312, di cui 24 ospedalizzati. Impennata di contagi anche a Torre Annunziata, dove sempre nel weekend sono stati registrati 59 nuovi positivi contro le 20 guarigioni accertate nello stesso lasso di tempo. Sale dunque a 185 il dato complessivo dei cittadini attualmente positivi, 6 dei quali ricoverati. Anche Enzo Cuomo, sindaco di Portici, ha pubblicato il bilancio della prima settimana del 2021. Nei giorni dal 1 al 7 gennaio sono stati registrati un numero di 449 tamponi effettuati con un esito di 19 nuovi contagiati, con un numero di guariti stazionario. A San Giorgio a Cremano invece le persone attualmente positive sono 50, un numero contenuto ma significativamente più alto del totale di 33 con il quale si era concluso il 2020. I 389 tamponi effettuati nell'ultima settimana hanno evidenziato ben 33 nuovi contagi, mentre 16 sono le persone guarite. Sono 113 i cittadini di Castellammare di Stabia risultati positivi al coronavirus nel periodo dal 31 dicembre 2020 a 7 gennaio 2021. Tra i nuovi contagiati ci sono un bimbo di un anno e uno di due, 9 ragazzi tra i 9 e i 17 anni, 6 persone tra gli 83 e i 90 anni. Per una 65enne è risultato necessario il ricovero ospedaliero.